L'allarme è stato lanciato da un residente della zona. Quel puzzo davvero nauseabondo che fuoriusciva da un casolare disabitato di via dei Gemelli ad Alcamo Marina nei pressi di zona scampati magazzinazzi era divenuto assolutamente insopportabile. L'uomo ha quindi contattato Enrico Rizzi, responsabile del PAE, il Partito Animalista Europeo, che si è catapultato da Trapani sul posto allertando la polizia municipale e l'ufficio veterinario dell'ASP. Sono arrivati quindi il veterinario Vincenzo Vilardi e gli uomini del comandante Giuseppe Fazio che hanno rinvenuto le carcasse di due cani di grossa taglia. Uno era avvolto in una vecchia coperta. Dal sopralluogo è stato anche appurato che la morte dei due animali possa risalire a più di un mese fa. Sulle carcasse non è stato rinvenuto comunque alcun segno di percosse o di altre brutalità. La tesi della polizia municipale che indaga sull'episodio è quella della solita inciviltà di qualcuno che ha preferito liberarsi così dei cani di proprietà dopo la loro morte o che li aveva abbandonati ancora in vita proprio in quel casolare degradato. Nell'edificio anche rifiuti di ogni genere scritte sui muri con la vernice e quant'altro. L'ASP ha quindi prodotto alla comune di Alcamo la comunicazione necessaria a procedere allo smaltimento obbligatorio. la polizia municipale oltre che ad occuparsi delle procedure da seguire avvierà anche adesso alcune indagini per risalire al proprietario di quella degradata abitazione di Alcamo Marina.